vedi questa è l'unica parte che non ho visto farò con il pennellino pazienza perché solo questa striscia di sotto di sotto è tutta colorata però questa striscia non so perché mi è scappata l'ho girata ma mi è scappata poi per il resto come vedi guarda qua la testata vedi tutto perfetto vedi la pompa è tutta perfetta lo smontate perché devo revisionarla comunque la mamma mi diceva che è meglio che ci chiami lo stesso anche se non sai se non sai se hai la febbre o meno sai com'è ma così mi ha detto e così ti dico grazie